Prima vittoria in Serie A da allenatore, già 4 punti nel 2023. Conoscevate Marco Zaffaroni, nato a Milano nel 1969. L'attuale tecnico dei gialloblu è stato un ex calciatore, giocava in difesa. Durante la sua carriera è arrivato a giocare in Serie B con la maglia del Taranto tra il 1990 e il 1993, 88 presenze con i pugliesi e anche un gol. La sua esperienza in panchina inizia nella stagione 2011-2012 alla guida della Folgore Caratese nel campionato di eccellenza. Fa benissimo poi anche nella sua seconda esperienza. Il Monza nota le sue qualità, lo ingaggia nel 2016 e lui porta i Brianzoli dalla Serie D alla Lega Pro. Dopo l'esonero l'Albino Leffe punta su di lui. Fa benissimo al secondo anno dei play-off, eliminato soltanto in semifinale. Una squadra storica della nostra vecchia Serie A, il Chievo Verona, lo mette sotto contratto. Zaffaroni sarebbe stato allenatore del Chievo in Serie B, ma i gialloblu quella stagione nemmeno la cominciano. Il destino qui venne in conto a Zaffaroni perché il Cosenza, squadra ripescata proprio al posto del Chievo, lo prende in panchina, salvo poi esonerarlo qualche mese più tardi a causa di diversi risultati deludenti. Il Verona, la chiamata della vita, ha iniziato come vice di Bocchetti una volta scaduta la deroga dell'ex calciatore, la società ha deciso di dargli in mano la squadra.